ora usiamo invece wildwood come contrast per andare a fare si ragazzi bentornati sul mio canale oggi andiamo a fare un video di pittura dove vi voglio spiegare come dipingere una banshee quindi diciamo uno spettro questa è una tecnica che può essere molto utile sia per i giochi da tavolo che per i wargames io sto già dipingendo altre banshee con tecniche un po più avanzate come questa i tutorial per imparare come si fa li trovate sulla mia pagina di patreon oggi vi voglio far vedere invece un metodo semplice su come dipingerla un metodo semplice ma anche efficace quindi noi prendiamo la nostra banshee gli ho dato una base bianca come vedete e poi dopo prendiamo la nostra palette che è questa i colori che vado ad usare sono il contrast esermatic blu e il contrast medium invece il technical li agitate tutte e due dopo di che partiamo con il technical medium quindi partiamo col medium e lo andiamo a stendere questo è un colore invisibile non è neanche un colore è un medium medium in pittura diciamo che una sostanza trasparente o semi trasparente che serve per allungare gli altri colori quindi io do una bella passata sul corpo dello spettro nelle zone dove mi interessa con questa sostanza molto liquida invisibile dovrebbe aiutare diciamo a diluire il colore che io ci vado a mettere sopra lo userò in combo con i colori contrast che vuol dire che avremo un effetto del tutto particolare dopo che io ce ne ho messo in abbondanza ora non si vede perché è trasparente andiamo a prendere esermatic blu il contrast che avevo fatto vedere prima poi andiamo a puntellare il modello partendo dalla gonna in modo che il colore fluisca sopra il medium guardate come si espande lui lentamente andrà verso il basso quindi continuiamo a rinforzare la zona alta perfetto aggiungiamo colore a tocchi e lui lentamente scenderà ora caviamo colore dal pennello quindi facciamo in modo che il pennello ne abbia molto poco e verso il fondo iniziamo a stenderlo quindi diciamo ad allentarlo perché sul fondo io non voglio che il colore sia molto forte ma voglio che rasenti il bianco quindi lo tiriamo su lo tiriamo su continuiamo a lavorarlo se vedete che è troppo o se volete avere un effetto più spento prendete un panno e asciugate il fondo del modello questa è una tecnica sempre molto efficace quando vogliamo provare di sfumare quindi diamo una passata solo sulla parte bassa ok se volete un effetto un po più forte nella parte alta continuiamo ad aggiungere colore in questa zona poi caviamo colore dal pennello e piano 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 la tiriamo giù li tiriamo giù questo colore ok se volete allungarlo oppure smorzarlo potete sciacquare il pennello prendere dell'altro medium quindi ho preso dell'altro medium lo andiamo a stendere nella parte bassa in modo che diluisca il colore ancora di più ok ora aspettiamo che si asciughi vediamo l'effetto ok mentre la nostra banshee sta finendo di asciugarsi andiamo avanti con gli altri colori quindi io voglio fare una base bronzo oro invecchiato userò balthasar gold per il corpetto voglio creare un glaze con irak skin per fare il mantello di fuori e voglio ripassare prima di tutto le sbavature che ho fatto sulle altre parti con ceramite white quindi noi prendiamo il nostro modello partiamo con il bianco lo scossiamo lo apriamo prendiamo un po lo stendiamo sulla paletta quando ce l'abbiamo possiamo cominciare quindi tutte le parti dove io sono strabordato sono queste qui a lato ceramite white sembra abbastanza più chiaro della tinta di fondo bianca che gli ho dato quindi cercherò di simulare delle venature nel mantello al fine di farlo sembrare più naturale non coprire anche qua dietro per bene qui c'è ancora un po di colore fresco ma non fa nulla cerchiamo di prenderlo via ok ok quindi più o meno le sbavature le ho coperte grosso modo tutte diamo un pochino qua dietro che vedo che è strabordato qua essendo molto sotto molto nascosto la tinta di fondo ha fatto fatica ad arrivare vedrete comunque che quando si sarà asciugato questo bianco lo stacco sarà molto più leggero perfetto il modello ora mi sembra abbastanza a posto andiamo a fare il corpetto poi procediamo con la creazione del glaze quindi ne approfittiamo anche per vedere qualche tecnica prendiamo il nostro baltazar gold lo scossiamo bene ne mettiamo un po nella nostra paletta lo allunghiamo con una punta di acqua ma appena una punta poco poco poi prendiamo il nostro modello e incominciamo qui vogliamo dipingerlo tutto forse ceramite white era meglio passarlo dopo aver fatto il corpetto nel caso sbavassimo di nuovo ma vabbè al massimo ripassiamo una seconda volta il corpetto di bronzo lo copriamo tutto cerchiamo di fare anche le parti interne andiamo sotto cerchiamo di arrivare dappertutto anche se so che è difficile io ho sbavato un pochettino al massimo dopo lo recuperiamo ok direi che il nostro corpetto è fatto ora vogliamo andare a creare un glaze con questo iron rack skin quindi questo verdognolo grigino molto molto chiaro che ci servirà per fare la parte esterna del mantello quindi lo scossiamo lo aggiungiamo alla nostra paletta prendiamo un po perché non vogliamo che ci finisca dopo di che ci andiamo ad aggiungere un pochino di acqua ma qualche goccia non troppo così ho fatto 3 4 gocce vediamo quanto viene liquido direi che viene molto molto liquido quindi lo mescoliamo bene come glaze potrebbe andare ok proviamo cerchiamo di non averne tanto sul pennello quindi il pennello lo scarichiamo prendiamo il nostro modello iniziamo a fargli le pieghe interne del mantello stendiamo bene il colore già presente e lo riutilizziamo per fare tutte quante le pieghe andiamo bene dentro nei buchi carichiamo il colore proprio quando è finito finito diamo un po verso il fondo cerchiamo di dare una texture lasciando il bianco questo è un glaze leggerissimo vedete ma io voglio che sia così voglio che sia molto molto leggero ok quando ci avviciniamo al volto possiamo caricarlo un filino di più adesso che la parte alta vorrei che fosse un po più scura rispetto alla parte bassa se scura si può definire quindi lo carichiamo un po di più se ne abbiamo messo troppo scarichiamo il pennello e poi andiamo per sottrazione quindi rimuoviamo il colore soprattutto nelle parti rilievo ok come glaze non è male facciamo la parte interna cerchiamo di stenderlo in modo irregolare ok in modo da creare questo effetto fantasma cerchiamo di andare anche sotto mi raccomando possiamo decidere anche di fare la pelle dello stesso colore volendo quindi possiamo andare anche sulle manine e sul volto ok lo vediamo un attimo questo è quanto direi che l'effetto spettro mi piace molto chiaramente non è finita la parte del mantello esterno ma dovrà ancora essere lavorata ma questo è un buon punto di partenza facciamo bene anche qua in basso ok perfetto intanto vedete si sta asciugando il primo contrast che abbiamo dato le zermatiche l'effetto direi che è molto molto bello a questo punto andiamo a dipingere un po tutti i grigi voglio farli velocemente quindi li facciamo con basilicanum grey che è un contrast scossiamo il colore stando un po attenti al resto del modello procediamo qui voglio possibilmente che si mischi un po alle fiamme quindi non lo stendo proprio dappertutto per aiutare la transizione posso prendere un po d'acqua non troppa metterla vicino al bordo tra il contrast e le fiamme e poi pulire il pennello dall'acqua in eccesso e tirarlo vedete come questo ci aiuta a mescolare i colori continuiamo con il contrast facciamo tutte le pietre che vediamo nella basetta contrast è molto utile qui perché è veloce il grigio devo dire che rende abbastanza bene l'effetto prendiamo un goccettino d'acqua appena appena lo mettiamo qui sul bordo così ci aiuta la transizione del grigio sul sull'altro colore che ancora un pochino è umido ok questa pietra direi che è finita andiamo avanti sotto ok la pietra la stiamo quasi sistemando facciamo anche questa qua con i teschi la facciamo tutta grigia poi vedremo se dare una sfumatura ai teschi o meno tanto che guardate il modello vi ricordo se non l'avete già fatto di iscrivervi al mio canale vi ricordo anche che ho lanciato la mia pagina di patreon dove rilascerò mensilmente dei video sia di pittura che di giochi da tavolo sono video che non ci saranno su youtube quindi pubblicherò diciamo dei contenuti aggiuntivi disponibili solo per coloro che mi aiuteranno a mandare avanti il canale chiaramente su patreon parlo di tecniche un po' più avanzate quindi qui vi faccio vedere delle tecniche semplici diciamo un po' anche alla portata di tutti mentre su patreon cercherò invece di portarvi un po' verso il livello successivo quindi nei primissimi video che ho fatto parlo ad esempio di wet palette come tenere il colore fresco durante la pittura e di come iniziare a fare delle sfumature veramente serie continuiamo con la nostra pietra roccia qui ci sono dei rami qui c'è un po' di tutto intanto io lo faccio grigio poi dopo deciderò di cambiare colore a qualcosa lo andiamo a recuperare in un secondo momento mi manca una piccola parte qui e direi che ci siamo ok ora che il nostro mantello esterno praticamente asciutto voglio andare a provare a fare una cosa molto coraggiosa speriamo di non rovinare il modello prenderò un po' di carobur crimson che è un ink voglio diluirlo ulteriormente anche se è già molto diluito quindi voglio metterne un po' sulla paletta prendiamo per bene poi prendiamo dell'acqua e la aggiungiamo voglio che sia davvero molto molto diluito ne prendo ancora un goccettino la metto a lato ok perfetto ora prendo il pennello lo intingo ma non voglio avere molto colore quindi un po' lo scarico ne voglio avere veramente poco andiamo a cercare di fare questa fantasia che mi è venuta vediamo state molto attenti ragazzi andiamo negli occhi ora sembra tanto dovete scaricare il pennello e stendere il colore che avete messo negli occhi quindi andiamo a cavare vi ricordo che essendo molto molto liquido noi dovremmo lasciare poi una leggera leggerissima traccia di questo colore quindi togliete il colore in eccesso poi lo andate a sfumare potete toglierlo anche un po' con le dita a sfumare dove lo ritenete necessario quindi voi andate giù quello in eccesso ve lo togliete con questo colore un po' più rossiccio se è troppo potete aggiungere anche dell'acqua pura vi vedete aggiungete acqua asciugate il pennello questi sono micro movimenti e poi lo tirate secondo me l'effetto è venuto molto bene è leggerissimo è chiaramente ora andiamo a stendere un po' di led belcher quindi colore metallico classico il più classico dei classici sul pugnale quindi questa operazione è abbastanza semplice cerchiamo di non sbagliarla l'unica parte rognosa è il manico quindi ok ce lo giriamo carichiamo il pennello quando ne abbiamo bisogno e continuiamo ok il pugnale direi che ha fatto sto ritoccando un attimo la parte alta perché la vorrei caricare un po' di più di questo colore viola che mi piace tanto e che quando si è asciugato si è perso un po' quindi lo sto caricando ulteriormente non è male neanche così è vero? non è male l'unica cosa che non mi piace troppo questo stacco qui il colore in fondo devo aggiungere dell'acqua per cercare di mescolarlo con i colori già esistenti ok ecco qua direi che mi piace molto ottimo intanto dipingiamo anche la parte bassa della basetta io uso still legend drab o dab no drab è il colore che ho usato per tutte le mie armate quindi uso sempre quello devo stare attentissimo a non toccare in alto le parti che si stanno asciugando ok ora il modello è abbastanza asciutto proviamo a mettere un po' di null noil sulla spada e soprattutto voglio che qui all'interno non sia bianco non so se lo potete vedere ma dentro il corpetto il modello è bianco quindi voglio farlo nero quindi prendiamo il nostro null noil lo applichiamo alla spada così da fargli le ombre lo facciamo anche dall'altro lato ok ora lo lasciamo asciugare prendiamo sempre un noil lo andiamo a mettere all'interno del corpetto cerco di usare un pennello un po' più lungo così da arrivare bene dentro ok a questo punto diamo una bella passata di Agrax Earthshade quindi l'inchiostro nero sul corpetto per renderlo diciamo arrugginito ok 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 vediamo il colore in eccesso qualora ce ne dovesse essere e ci siamo voglio rifinire un attimo anche la bocca sempre con del rosso con dell'inchiostro rosso così la rendiamo un po' più simile al resto perfetto ora prendiamo del colore bianco andiamo a ricoprire i dettagli della basetta che vogliamo fare con i colori contrast quindi li copriamo costando un filino attenti tutta la rosa le radici questo è un lavoro un po' brigoso però lo dobbiamo fa a questo punto prendiamo un po' di pallid witch flash andiamo a fare un leggerissimo dry brush quindi prendiamo il colore lo asciughiamo in un panno e poi lo andiamo a passare sul mantello leggero leggero facciamo anche nelle zone alte così da dare un po' di luce al tutto anche in cima dove abbiamo creato il viola e anche davanti sempre molto leggero in modo da smorzare un po' l'effetto del viola che era diventato un po' forte facciamo anche nella parte interna sempre senza esagerare ok ora usiamo militarum green che è un contrast per fare le radici della base prendiamo il nostro contrast e lentamente andiamo ad applicarlo sulla base lo stendiamo bene su tutte le radici che vediamo nella basetta poi andremo a fare con il rosso invece tutte le rose che ci sono ok ora prendiamo contrast flash tears red per andare a fare il rosso delle rose ok le rose sono fatte ora usiamo invece wild wood come contrast per andare a fare le radici che sono nella base prendiamo sempre la nostra base facciamo le radici quelle più grosse anche la zona di terriccio così da variare un po' il colore ok ok sono abbastanza soddisfatto della basetta non è finita ora con pallid witch flash voglio prendere un po' di colore piazzarlo nella paletta diluirlo con l'acqua quindi lo diluiamo per bene non prendiamo tanto colore sul pennello andiamo a fare i dettagli del viso quindi diciamo tutte le parti che spuntano nel davanti tutti i bordi la parte sopra ok così mi piace già di più vediamo se possiamo sistemarli ancora un pochino ecco li facciamo li allunghiamo facciamo per bene tutti i bordi questi li facciamo diciamo un po' selettivamente quindi solo dove c'è bisogno mi raccomando tenete il colore abbastanza liquido sono fatto un po' strocchio anche qui possiamo dare qualche colpo di luce ok secondo me la mandibola non è molto in contrasto io vorrei che si vedesse di più quindi proviamo a mettergli un altro po' di null noil quando fate queste operazioni mi raccomando non stedete l'inchiostro dappertutto ma mettetelo solo dove vi interessa a me interessa far staccare la mandibola un po' dal resto ok così gli abbiamo dato un po' d'ombra secondo me è molto meglio poi voglio inscurire anche la parte sopra del corpetto che non mi piace granché così direi che ci siamo più voglio inscurire anche questa parte delle fiamme intorno alle fiamme perché si è un po' diciamo ha perso un po' di contrasto vedete ok così è decisamente meglio anche dietro andiamo a coprire dei puntini bianchi che si vengono a formare quei contrast questi sono molto comuni dovete guardare bene dove state dipingendo il contrast quando si asciuga può lasciare questi puntini bianchi e se avete dato una base chiara non sono il massimo proviamo a mettere in risalto un po' di più gli occhi col nero rischiamo rischiamo dai così mi piace quasi di più sai si lo lasciamo così quando si asciuga poi vedrete che si smorzerà un attimo ragazzi io direi che il modello è finito è questo qua quindi avete visto come fare in un attimo questa sfumatura da spettro più vi ho fatto vedere anche come creare un glaze per fare invece un effetto molto molto leggero di verde chiarissimo anche questo è un verde spettrale nella parte dietro del mantello abbiamo usato i contrast per lavorare in velocità sulla basetta invece i metalli come vi ho già spiegato nel mio video dei contrast vanno fatti secondo me in modo regolare il modello secondo me è pronta la battaglia se volete fare qualche rifinitura in più potete dare le luci all'armatura all'arma e alla pietra ma direi che così il risultato è più che soddisfacente vi ricordo ancora una volta di iscrivervi al mio canale e di supportarmi su patreon io vi ringrazio come al solito per aver visto i miei video noi ci vediamo alla prossima puntata grazie a tutti i miei video grazie a tutti i miei video